Cari telespettatori, ben ritornati con noi e quest'oggi affrontiamo un argomento molto interessante, ovvero parliamo dell'olio d'oliva, un mondo eccezionale da conoscere, un mondo che quest'anno ci farà sorridere, ci farà avere uno sguardo positivo ed è molto importante. Lo facciamo con, abbiamo il grandissimo piacere di poterlo fare con Daniele Salvagno, grazie di essere qui con noi, perché è presidente nazionale Federdop e questo è molto importante perché così possiamo abbracciare tutte le DOP dell'olio d'oliva a livello nazionale delle diverse regioni, capirne la differenza, le peculiarità, quindi un occhio molto particolare. Ci fa piacere perché tra l'altro lei è anche un giovane imprenditore di seconda generazione, ha ripreso quindi secondo o terza, seconda e mezza, un'azienda molto seria che si trova in Veneto peraltro, a Grezzana, vicino al Lago di Garda, dopo racconteremo anche la storia di un'azienda perché a noi piace anche raccontare le storie positive, sono sempre, danno coraggio, danno entusiasmo, ma è anche presidente regionale olio d'oliva DOP. Ricordiamolo che in Veneto c'è la DOP dell'olio d'oliva, quindi questo è un altro aspetto molto importante, non da tutti ben compreso e noto, perché tante volte si associa l'olio ad altre realtà, ma vedremo anche di capire le differenze, perché ci sono delle differenze, delle proprietà organolettiche diverse, delle caratteristiche che vanno valorizzate, vanno conosciute, questo è molto importante. E poi facciamo chiarezza anche su tanti aspetti relativi all'olio d'oliva, perché tante volte si parla di frodi alimentari, di normativi europei cogenti, di situazioni che ci mettono un po' in difficoltà, i consumatori sono un po' disorientati. E la stagionalità quest'anno? Allora abbiamo una vendemmia che sarà eccezionale, tradizionale, quindi dovremo stigmatizzare il 2015 come una nata d'oro per la vendemmia e per l'olio d'oliva e cominciamo da quello. Sarà l'annata del secolo, io direi che dove si produce del buono vino si produce anche del buon olio. Ecco perché, allora iniziamo a raccontarla bene. Questo è un po' per la territorialità, noi adesso stiamo parlando del Veneto ed è una delle regioni baciate dalla fortuna, perché abbiamo il lago, il mare, i monti, quindi un microclima che si alterna tra caldo e freddo. L'alternanza di temperature ci permette di avere profumi e aromi in tutti i prodotti alimentari e a maggior parte sia per l'uva, che abbiamo visto una stagione veramente eccezionale, e sia per l'olio d'oliva. La pianta dell'olio d'oliva è una pianta che si radica sul territorio in maniera molto rupestre, quindi dove non si può piantare la vigna si pianta l'olivo, perché è una pianta che si adatta bene a qualsiasi tipologia, anche proprio lo scoglio, il terreno sassoso, eccetera, non ha necessità di tantissima acqua e quindi è una pianta che si presta alle nostre colline. Dalla zona del lago di Garda, la zona della Valpolicella, Colli Eugani, Berici, fino al Grappa, l'olivo si è espanso negli ultimi dieci anni a misura di centomila piante di olivo all'anno. Quindi tenete presente che queste sono piante che oggi sono altamente produttive e bisogna far conoscere al nostro territorio che abbiamo un'eccellenza, ed è proprio il Veneto DOP. Io ne faccio parte perché vengo da una famiglia di produttori, siamo stati i pionieri nel certificare questa zona e perché abbiamo voluto un'ampia zona così grande, quindi del Veneto, non tanto per campanilismo ma perché è giusto che ogni comune di questo territorio abbia la possibilità di certificare un prodotto di qualità. La certificazione che cos'è? La DOP che cos'è? È una certificazione che fa un ente terzo, un estraneo, in questo caso abbiamo CSQA che è di Tiene, ma è un ente terzo che viene a certificare se noi produttori facciamo bene il nostro mestiere e concordemente con il produttore, chi raccoglie l'oliva, chi la porta al frantoio, quindi il frantoiano che molisce l'oliva in tempo in giornata, quindi ci siamo dati anche dei paletti, l'oliva non deve aspettare, non deve rimanere fuori sui piazzali, deve essere raccolta e portata al frantoio in giornata e lavorata nella stessa H24, quindi questo è uno delle sicurezze alimentari che diamo al consumatore. Garanzia di cosa questa procedura? Innanzitutto di genuinità perché partiamo dalla pianta, partiamo dal produttore, quindi il produttore ha certificato i suoi oliveti, quindi vengono numerati, vengono calcolate le varietà, verificate sul luogo che corrispondano al disciplinare e poi l'importanza per ottenere un olio extravergine di altissima qualità è l'importanza che il frutto venga raccolto e molito immediatamente. È un po' come una mela, quando cade per terra si ammacca. Lo stesso per l'oliva, viene raccolta, viene raccolta mediamente con le pinze, con i pettini e quindi si ammacca e pertanto va subito immediatamente molita, quindi inizia il processo di lavorazione e quindi minore ossidazione del prodotto, migliore sarà il grado di contenuto di sostanze nutrizionali. Teniamo presente che l'acidità dell'olio è determinata dal minor tempo che passa tra la raccolta e la lavorazione, quindi è un dato importante. Quindi un olio che cosa deve avere? Noi per disciplinare abbiamo oli inferiore 0,5 di acidità, quando per legge un olio è ottimo fino a 0,8, ma noi ci siamo fatti un parametro restrittivo che è 0,5 di acidità e poi i perossidi. I perossidi sarebbe la giovinezza che ha l'olio e i perossidi per legge sono a 20, noi li abbiamo portati alla metà, a 10. 10 di perossidi vuol dire dare un prodotto di eccellenza, dare un prodotto al consumatore giovane, quindi fresco, raccolto e lavorato. Perché l'importante è un olio? Perché allora c'è il vino che è invecchiato, acquisisce aromi, sapori eccetera. L'olio invece che concezione bisogna avere? Dobbiamo guardarlo come la nostra vita, il nostro percorso di vita. L'olio extravergine più è giovane e più è fresco, nel tempo invecchia e quindi i perossidi aumentano, l'acidità aumenta e quindi non è giusto dire che l'olio maturando migliora, anzi è proprio nel momento in cui si frange che si ha il massimo dell'espressione dell'olio. Dell'esaltazione. Esatto. E per quel che riguarda le proprietà nutrizionali, organoelettriche, che caratteristiche? Beh, noi abbiamo una caratteristica che è fatta da Grignano, Favarolo all'interno della nostra zona areale produttivo e che questo dà una nota di mandorla, di carciofo. Di carciofo. Sì, sì, carciofo, mandorla, leggermente un retrogusto di melanzane, di frutta matura. Queste sono note positive che si riscontrano negli oli locali del nostro territorio. E questo nel DOP viene inserito all'interno come parametro analitico e di valutazione. Come mai questi aromi particolari? Qual è la differenza rispetto a quelli che si possono riscontrare in un olio toscano, ligure o pugliese? Sì, se andiamo a spaziare un pochino nel... giusto per creare anche un po' di cultura dell'olio anche nel nostro consumatore, se noi andiamo in Sicilia sentiamo le note di pomodoro. Proprio il pomodoro e la foglia verde di pomodoro. Un po' perché il terreno lo addice, proprio c'è giornate soleggiate, molto più calde rispetto alle nostre che invece sono molto più rigide. Se andiamo in Toscana c'è la fragranza e l'erbaceo, molto aggressivo. Cioè cosa vuol dire? Come quando mangiamo una foglia verde, si sente quel amaro, quel piccante. Lo stesso poi la si nota nell'olio. Se voi scegliete un olio umbro toscano, nelle regioni proprio che sono vocatissime dell'olio d'oliva, sono oli leggermente più aggressivi dei nostri, sono leggermente più decisi. E allora vanno abbinati a una ribollita, a una pasta e fagioli. Il nostro olio che ha una nota comunque di rotondità, di mandorla, di carciofo, io lo abbino perfettamente su una pasta in bianco, piuttosto che su una bella insalata. E perché no? Una tagliata rucola e grana, ma molto delicata. Il grana gli dà quella rotondità e l'olio ne crea il condimento e il legame perfetto. Se parliamo di Sicilia, la Sicilia ha questa nota di pomodoro, di erbaceo, ma che io la sposo con una caprese, una mozzarella di bufala, piuttosto che una mozzarella mignon, col pomodorino, il basilico fresco. E perché no? Un buon siciliano. La Puglia, per esempio, è stretta e lunga, ha delle caratteristiche in funzione delle città. Noi teniamo presente che la zona di Foggia, rispetto alla zona di Torre Maggiore, piuttosto che Andria, si diversificano molto. Come mai? Si diversificano un po' per il terreno, un po' anche per le varietà. C'è la zona della Peranzana, la zona della Coratina, che è una varietà stupenda, che però è molto aggressiva. Il nostro palato un pochino non è abituato a oli così. E quindi ogni zona che vai, olio che trovi, anche la nostra cucina stessa, non si addice ad avere oli diversi dal nostro territorio. Infatti, questa è una cosa importante, perché tante volte si dice olio pugliese generalizzando, poi effettivamente non dice la Puglia, è bella lunga, e abbraccia situazioni anche di terreno diversi. Quindi non è corretto dire tutto uguale. Assolutamente. La zona del Gargano, se qualcuno va in vacanza, trova degli oli abbastanza rotondi e dolci. La zona invece... Più vicina ai nostri, in qualche modo. Andando in giù, c'è la Coratina in purezza, e lì è un olio amaro e piccante, e che molto spesso non trova la giusta combinazione con quello che siamo abituati. Caratteristica che ha poi la Coratina dal punto di vista nutrizionale? Ma è un ottimo olio, sicuramente, ha dei polifenoli elevatissimi, portano 300 di polifenoli, sostanze antiossidanti, quindi a livello di principi nutrizionali, ineccepibile. Però dal punto di vista gustativo e olfattivo, sono oli molto, molto aggressivi. Quindi bisogna essere abituati a usarli, quindi magari una cucina più piccante, più... Più forte, come sapori più decisivi, più pronunciati. Naturalmente noi qua siamo gente lacustre, quindi tra il mare, Chioggia e il lago di Garda, siamo gente che predilige le insalatine, la cosa di polipo, piuttosto che il lavarello di lago. Non possiamo assolutamente usare degli oli così aggressivi, o almeno io non ce la faccio, nel senso che... Quindi invece che valorizzare l'alimento, lo andrebbero a penalizzare, alterare? Lo andrebbero più che altro a coprire nei profumi. Anche noi siamo forti qua nel baccalà, alla Vicentina, no? I ristoratori molto spesso facciamo dei confronti tra di noi, che olio mi consigli, come facciamo? Il baccalà alla Vicentina con latte, piuttosto che che olio prediligiamo. E lì allora ce la giochiamo. Andiamo lì nelle cucine, portiamo i campioni e vediamo che con gli chef si vede un risultato completamente diverso. Completamente diverso. Completamente diverso. Tra utilizzare un olio del nord, del centro e del sud, senza nulla togliere, perché sono tutti oli di eccellenza, soprattutto all'interno delle denominazioni d'origine, perché, come dicevo, la DOP è garanzia comunque di qualità. Ecco, adesso parlare di garanzia di qualità è fondamentale, soprattutto quando parliamo di concorrenze, di frodi alimentari e di imitazioni, che sono qualcosa di svilente e triste, tra l'altro, perché purtroppo in Europa non abbiamo difficoltà ad affermare i made in Italy sotto vari profili. Ci sciupano un po' quello che è la nostra forza e la nostra tradizione. Esatto. Lei ha una responsabilità come Presidente nazionale di rappresentanza di un prodotto prezioso, di eccellenza assolutamente, che però sta subendo degli attacchi incredibili. Sempre più. E, tra l'altro, noi stessi consumatori siamo un po' disorientati, in dubbio. Cioè, quando non capisci mai se veramente con olive italiane, parzialmente italiane, da dove vengono, ci sono... Insomma, è qualcosa di molto particolare e difficile, immagino anche per lei. Allora, come possiamo fare? Qual è la situazione anche a livello Europa e non solo, nei confronti anche di altri paesi come gli Stati Uniti, perché sono loro che stanno... Allora, teniamo presente che il settore alimentare, il nostro settore alimentare, è uno dei settori più controllati. Quindi noi abbiamo dall'USA, alla NAS, alla forestale, veramente organismi che controllano il prodotto alimentare posto sugli scaffali e sui ristoranti. Teniamo presente che la legge dell'antirabocco è venuta dall'Italia, quindi questo perché si è visto che vogliamo prediligere quello che è l'originalità sul tavolo. Quindi la bottiglia che non si possa riempire, questo è garanzia per il consumatore. Quando si parla di italianità, non dobbiamo guardare i colori della bandiera italiana su una bottiglia, ma dobbiamo bensì guardare un codice affanumerico che ogni singola azienda è registrato al Ministero dove quando dichiariamo 100% italiano le olive devono essere non solo olive italiane, ma lavorate all'interno del territorio italiano e certificate perché derivano da un catasto olivicolo. Quindi adesso direi che i banditi hanno vita breve, non ci si può più camuffare dietro a una bandiera italiana e saluti al secco. Ma quindi la parola extravergine non vuol dire nulla? No, la parola extravergine non dà sinonimo di originalità del prodotto. Potrebbe essere un extravergine fatto in Grecia, in Spagna, o in Tunisia o in Marocco con le olive raccolte da terra. Noi dobbiamo prediligere, almeno visto che siamo italiani, oli italiani, perché comunque direi che è un patrimonio che diamo al nostro territorio e al lavoro che fanno questa olivicoltura meravigliosa in tutta l'Italia. A maggior ragione, adesso parlo un po' da Veneto, ma se siamo in Veneto abbiamo dell'olio che è a denominazione d'origine protetta e quindi ancora di più valorizziamolo, cerchiamo di utilizzarlo. Io capisco che magari costi qualcosa in più, ma beviamo tanti caffè, evitiamo magari un caffè, ma spendiamo qualche euro in più per una bottiglia di olio. Penso che questo lo dobbiamo. Ecco, forse non c'è ancora, soprattutto anche in persone di una certa età, la cultura e la conoscenza dell'olio in Veneto, perché, possiamo dire, non è antichissima, non è secolare, è recente. Certo. È recente e voi vi siete fatti strada, sgomitando, con impegno, con investimenti incredibili. Poi, appunto, racconteremo, entreremo anche nella vostra azienda, perché è a livello così regionale, emblematica, proprio per il tipo di applicazione che avete fatto. Quando è che l'olio in Veneto ha incominciato ad emergere in modo significativo e anche lì, giustamente, Veneto è abbastanza grande, quindi abbiamo dal Garda ai Colli Ugani, ad altre zone, che è diverso da territorio a territorio. Certo, certo. Beh, teniamo presenti che abbiamo due denominazioni, il Garda D.O.P. e il Veneto Valpolicella Colli Ugani Berici. Noi abbiamo voluto... Ci sono quindi due o tre? Due denominazioni. Due denominazioni. Il Garda e Veneto. Il Garda tocca solo il lago di Garda, una piccola produzione di altissima qualità e anche rinomata. Il Veneto è tutto da scoprire e questo penso che sia un valore inestimabile, perché il Veneto raggruppa tre sotto zone. Perché abbiamo distinto tre sotto zone? Perché gli amici di Pove del Grappa, che hanno un olio eccezionale, è leggermente differente da quella della Valpolicella, dove si fa l'amarone. E lo stesso per quanto riguarda Treviso, piuttosto che... e quindi abbiamo... oppure Abano-Montegrotto. E quindi abbiamo voluto tenere separate, proprio per creare anche questa curiosità nel consumatore e poter freggiarsi di due o tre sotto zone, che alla fine diventa una piacevolezza. Io continuo a dire che il ristoratore è il nostro insegnante di scuola e quindi poter uscire con un carello e dire vi presento il mio risotto mantecato e vi abbino questo piuttosto che quest'olio, perché l'ha fatto il tal produttore o l'amico con gli olivi vicino a casa. Questo penso che sia un valore inestimabile che bisogna che valorizziamo. Assolutamente. Noi vediamo prima delle immagini anche delle degustazioni di olio d'oliva con dei versi particolari della bocca dell'assaggiatore. ci svelerà anche questo, perché stiamo parlando di capire le differenze subito dopo la pubblicità, tra poco.